Benvenuti a tutti nel mio canale di Notizia Italia nel mio cuore, la storia di oggi è e è impossibile vedere Charlene Whitstock fuori forma, lei è sempre impeccabile, una delle donne più belle al mondo e non perché è la principessa di Monaco Ma facendo parte di una delle famiglie reali più importanti sulla faccia della terra, lei indossa sempre abiti eleganti e di classe, raramente l'abbiamo vista in costume Soprattutto in questi ultimi anni, dove è stata anche lontana dai riflettori per la terribile malattia che ha dovuto affrontare Sapete che Charlene di Monaco è davvero uno schianto in bikini? Un sogno ad occhi aperti, vediamola Charlene di Monaco, una bellezza incredibile. Siamo abituati a vedere Charlene sempre con abiti di classe e sempre molto sobri Ma non tutti sanno del suo passato da nuotatrice di successo, addirittura, arrivò a partecipare anche alle Olimpiadi di Sydney del 2000 Il nuoto è sempre stato la sua più grande e passione. La moglie di Alberto di Monaco, viene definita dal pubblico la principessa triste proprio come la compiante Lady Diana a causa delle sue espressioni serie e malinconite Alcuni sostengono che Charlene non sia riuscita a dimenticare la sua passione per il nuoto e probabilmente la mancanza si fa sentire . Malgrado non si alleni più, Charlene è riuscita a mantenere un fisico perfetto L'avete mai vista in bikini? La moglie del principe Alberto è un vero sogno ad occhi aperti, vediamola, rimarrete senza parole per la sua bellezza . Facendo alcune ricerche sul web, abbiamo trovato delle foto bellissime di Charlene di Monaco Questa volta il bontone e gli abiti da principessa non ci interessano, perché l'abbiamo vista in un altro contesto . Punto in particolare, la moglie di Alberto di Monaco, tempo fa è stata paparazzata dai fotografi di diva e donna insieme a lui, in un lussuosissimo yacht, ai Caraibi Mentre Alberto pare non molto contento di stare in acqua, Charlene ha sfoggiato un fisico da urlo con il suo bikini bianco . Grazie a queste immagini possiamo notare che il suo corpo asciutto e definito è davvero da capogiro, da fare invidia alle ventenni Questi scatti la ritraggono più bella e raggiante che mai. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie . Grazie per la visione